Ciao a tutti, sono Marcia, ho frequentato il corso di pizza.it school e devo dire che mi sono trovata molto bene, quindi grazie a Alberto Bacchetti, grazie agli insegnanti Gianmario e Mamo che sono stati veramente di grande aiuto. Ciao a tutti, sono Alberto, vengo dai Paesi Paschi, Bilbao, qui al corso Pizza.it, ho imparato a fare la pizza, la vera pizza. Ciao, sono Michele da Secchiana e anche io ho frequentato il corso di Pizza.it, ci ho trovato benissimo con i maestri e tutta il staffo e consiglio a tutti questa pizza. Ciao, sono Stefano, vengo da Cartoceto, ho frequentato il corso di Pizzaiolo per Pizza.it school, mi sono trovato benissimo, ringrazio i miei maestri Mamo e Mario. Ciao a tutti. Ciao a tutti.